Le due fotocellule sono alloggiate nella stessa scatola metallica, schermata, con i cavi cortissimi, messi all'oscillografo, e questo è... sulla luce della finestra c'è il trasmenditore. Lo accendo. Fotocellula tappata, cioè senza luce. Adesso metto la radiofrequenza del trasmenditore. Adesso tolgo il tappo. È enorme. Trasmenditore in funzione con luce senza luce. Grazie. 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 Grazie.